è certo vota era l'introduzione oggi tutti i follower di movimento due ruote la gara è composta da tre mesi salite tutte molto brevi tranne una che lunga quattro chilometri via dritto quindi siamo sul percorso della gara adesso era l'arrivo della partenza quindi siamo già alla partenza ok ok allora si vogliono già andare a 50 all'ora all'inizio questo signore la salita è già finita buche ci sono la vedo male durante la gara se rimane così ma qua c'è tutti i vendoli non ce l'ha qualche banana e lo so ma che ce l'ha ma dura solo 100 metri vedi il posto? se l'ha messo meglio adesso sono 4 km 8% meglio buco cane tra l'altro questa è la salita questa è qua ma cosa sembra si aveva già fermato a fissare cosa? no si aveva già fermato a fissare ora ti c'è la videocamera accesa eh girati per favore cazzo girati però per favore adesso 7 mila penso c'è l'ombrella o qua c'è boi cazzo c'era giù lì il ghiaccio? no ma 3% io allora ripi di nuovo la prima salita come si può anche chiamare salita far suo piano la seconda è un montidinese praticamente no no ma è quattro piove, sono molti gineci? no, sono sempre cosa significa quello del gesto lì? mamma mia ingara qua non mi frena più figa non mi frena più 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 passaggio perché è qua c'è un sui giù così con la cascata di te foto non la nulla come farla spettacolo questa fa parte dalla gara spettacolo spettacolo ho preso un colpo qua ma potete finire anche il giro voi? io finivo il giro ma perchè l'abbiamo visto prima non ti passa in aspetto piuttosto diciamo che la cosa che si è fatta più male è il portafoglio che cazzo è quello? a dopo a me allora davanti a te eh si in un momento ti prendevo le ti prendevo gli occhiati e le rende guarda quello è il meno qua grazie 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 grazie